La nostra raccolta firme è iniziata a giugno del 2020 e sin da subito abbiamo richiesto semplicemente il ripristino dei servizi presenti in acqua marina. Questo per evitare di fornire qualsiasi tipo di alibi a chi si sarebbe dovuto occupare di rispondere ai nostri bisogni. La raccolta firme avviata dal coordinamento per la nuova piscina terapeutica, null'altro chiede se non il ripristino di spazi idoni per i servizi che l'ex acqua marina offriva. Non ci sono state nel documento sottoscritto da oltre 8500 persone luoghi identificati come assoluti per la costruzione della struttura né altri vincoli rappresentati dal vasto popolo di utilizzatori dell'ex piscina o di semplici cittadini sensibili all'argomento. La necessità di chiarire gli intenti nasce dalle voci che corrono circa gli obiettivi del coordinamento che recentemente ha commentato i diversi luoghi di cui si parla per una possibile collocazione degli impianti. La confusione fra raccolte firme è forse causata da un'altra ricerca di sottoscrizioni partita però tempo prima. Esisteva precedentemente una raccolta firme condotta da altre persone che si riferiva al recupero della piscina acqua marina. Questa raccolta firme è stata condotta da ottobre a dicembre del 2019 quindi molti mesi prima di quando siamo partiti noi. Noi come detto non abbiamo mai chiesto il recupero di quella struttura ma abbiamo chiesto semplicemente di ripristinare i servizi lasciando poi alla politica la scelta della migliore collocazione. Non è tutto in quanto i tempi della magistratura riguardo le indagini sulla piscina crollata si allungano ulteriormente. Ecco perché le opinioni del coordinamento diventano più percorribili. Abbiamo proposto noi all'amministrazione comunale una soluzione che è quella del mercato ortofrutticolo. Questo perché oggi ci sarebbe dovuta essere un'udienza però quest'udienza è stata rinviata data da destinarsi perché i costi per l'allestimento di un cantiere all'interno della piscina crollata richiedono un esborso economico importante. A questo punto diventa sempre più spendibile la nostra proposta.